Verfen opera nel settore della diagnostica in vitro e sviluppiamo strumentazioni, reagenti e soluzioni che ogni giorno hanno impatto sulla salute dei pazienti. Nel manufacturing center di Ascoli Piceno Verfen produce reagenti per le linee di chimica clinica e farmacotossicologia. Negli anni passati abbiamo sviluppato i controlli calibranti per la linea di tossicologia offrendo ai clienti una soluzione in provette monouso chiaramente identificate, tracciabili e semplici da utilizzare. Gestire l'applicazione dell'etichetta verticale sulla provetta è molto importante perché innanzitutto il prodotto che andiamo a dispensare all'interno della provetta è un prodotto molto delicato e servirà a produrre dei test di analisi dei nostri pazienti. Inoltre diversi di questi prodotti vengono poi congelati ed è importante che nella fase di congelamento il prodotto sia raccolto sul fondo del flacone. La soluzione che abbiamo proposto a Verfen è stato un nostro monoblocco di etichettatura notevolmente compatto che è in grado di etichettare le provette in posizione verticale. Composto da una nostra testa etichettatrice, da un robot SCARA OMRON, da un sistema di visione che in effetto è il controllo qualità della stampa dell'etichetta e da una camera di controllo dell'altezza di applicazione dell'etichetta direttamente sulla provetta. Abbiamo scelto OMRON perché ci ha consentito attraverso i loro prodotti di riuscire a fornire una soluzione robotica e di smart vision tutto integrabile nel solito ambiente di sviluppo facilitandoci appunto l'applicazione. Inoltre OMRON cura la nostra formazione tecnica garantendoci il supporto attraverso i loro tecnici locali. Abbiamo analizzato l'applicazione con l'ufficio tecnico MACCO e abbiamo individuato fin da subito come la tipologia SCARA fosse quella più adatta per svolgere i compiti richiesti dalle specifiche. In questo caso però veniva richiesto l'estrema compattezza della cella, per questo motivo abbiamo scelto il modello a corto raggio e lo abbiamo fatto scegliendo i sistemi di visione OMRON, nello specifico FH-V7, che è una smart camera che però ha il software di sviluppo, ambiente di sviluppo estremamente flessibile, che permette anche applicazioni complesse. Il fatto di poter utilizzare lo stesso software dei sistemi di visione ha fatto sì che i nostri tecnici potessero sviluppare un algoritmo che semplificasse la vita all'operatore. Premendo un unico tasto fondamentalmente sarà possibile memorizzare nuove ricette. La capacità produttiva del sistema è di mille pezzi ora e con i sistemi della OMRON, quindi il robot e le fotocamere, abbiamo la possibilità di monitorare e controllare la qualità della provetta, i codici a barre ed ottenere un prodotto chiaramente identificato e tracciabile da parte del nostro cliente. Oggi siamo arrivati a produrre oltre 140 mila provette annualmente con un trend in crescita ed abbiamo recuperato oltre il 30% di tempo produttivo. Questa soluzione è veramente unica, oltretutto è una soluzione sottoposta a brevetto. Avevamo necessità di renderci conto tramite il simulatore che il nostro progetto che avevamo in mente e avevamo chiaramente realizzato con i nostri sistemi di progettazione fosse un sistema chiaramente affidabile, attendibile e che rispettasse quello che erano le reali richieste di PERF. Lavorare con OMRON sulla simulazione ci ha dato la possibilità di massimizzare le performance dell'hardware e minimizzare i costi. Grazie al software ACE di OMRON, portando i file step della cella, siamo riusciti a ricostruire il modello virtuale dell'applicativo e questo ha reso possibile il riutilizzo del software anche per il debug della macchina. Rispetto ad altre soluzioni robotiche già implementate in passato, questo caso ha un'unicità assoluta, infatti i prodotti che vengono etichettati in verticale non richiedono un robot perché tendenzialmente sono stabili, oppure vengono etichettati in posizione orizzontale. Questo non era possibile, ci è stato richiesto di fare uno sforzo nell'immaginare, nel pensare, una scella innovativa e la soddisfazione massima che ci siamo riusciti. Dietro ai nostri sistemi c'è sempre la storia di un paziente. I pazienti siamo noi, i nostri familiari, i nostri amici, i nostri vicini e come pazienti ci aspettiamo che le diagnosi sulla nostra salute vengano effettuate con le migliori strumentazioni in grado di offrire i dati più precisi sul nostro stato. La soluzione proposta da Macco è stata per noi una svolta perché con il sistema robotizzato OMOR nel sistema di visione abbiamo la possibilità di gestire il prodotto sempre in verticale controllandone la qualità fino alla fine. Grazie a tutti!